La strumentazione Grazie alla variazione di pressione, è possibile realizzare uno strumento in grado di misurare la profondità. Il profondimetro Oggi sono molto diffusi i profondimetri digitali, che sono veri e propri computer per apnea, in grado di darti molte utili informazioni come l'ora, la temperatura dell'acqua e i dati della successione di immersione. Il computer per apnea ti permette di regolare il tempo di recupero in superficie tra un'immersione e l'altra e di impostare una serie di allarmi subacquei. Fra questi allarmi è previsto anche un allarme di profondità. Tutti questi dati dovrebbero essere impostati al momento della programmazione dell'escursione e comunque prima di entrare in acqua.